Buongiorno, benvenuti, siamo a Prata, il mister Montaggio 2, Tiziano, cosa ne pensi di questa partita? Buongiorno, buona domenica a tutti, è la partita d'esordio di questo torneo denso e speriamo di fare la nostra bella figura, contando l'impegno, è la prima cosa che ci dobbiamo divertire. Dopo una settimana di polemica, chi saranno i primi undici? I primi undici, non è ancora definita la formazione, però comunque giocheremo con Grieco, Follo, Medugno, Delia, Piccariello. Poi a centrocampo facciamo un centrocampo a tre con Tucci davanti alla difesa, a mezzo destro Angiuni e Maccanico che dovranno essere il perno del centrocampo. Poi sulle fasce laterali abbiamo i due dello russo che sono giovanissimi e il nostro bomber Paolo Fabrizio con la speranza che ci faccia una doppietta. Va benissimo.